Per l'invito, per l'organizzazione della giornata, a Ispra, al CER, a tutti i carabinieri che oltre all'ospitalità hanno dato almeno ai miei studi molto supporto negli ultimi anni. Io vi parlerò dei testugini di Herman, ne abbiamo già parlato un po', è una specie protetta, CITES, è una specie tutelata dalla Convenzione di Berna e almeno nell'areale occidentale, che poi è quello dove ricadono le popolazioni italiane, è considerata dalla UCN a rischio di estinzione. Le minacce le potete intuire soprattutto da una coppia di diapositive, di fotografie. L'ambiente naturale è tra gli altri l'ambiente costiero, dunale, retrodunale e la distruzione degli abitati lungo le coste, soprattutto dell'Europa del sud occidentale, è stata enorme. Quindi un animale che ha perso moltissimo del suo abitati, le popolazioni si sono ridotte. Oltre a questo c'è stata anche una perdita di densità di popolazione dovuta a raccolta di animali, che poi venivano portati e tenuti a casa come animali domestici, e anche un commercio illecito che negli anni ha portato, qui sono riportato negli anni, il numero di esemplari di testugini, sia in tonnellate che in individui, nel corso degli anni. E intorno agli anni 70, più o meno, si è arrivato dei picchi di importazione dai paesi balcanici verso i paesi tipo l'Italia, la Francia, soprattutto l'Italia e la Germania, di centinaia di tonnellate di testugini, tradotto in migliaia, centinaia di migliaia di animali. Queste quindi, diciamo, potevano e in parte hanno inquinato, diciamo così, le caratteristiche naturali delle popolazioni dell'Europa occidentale. Vedremo questo cosa significa. Da quando poi la specie è tutelata sono iniziate i sequestri, sono iniziati gli abbandoni anche di chi non voleva dichiarare questi animali e tutto ciò ha portato alla creazione di recinti, di gestione di questi animali, la cui origine era per lo più sconosciuta. Recinti gestiti soprattutto dal Corpo Forestale dello Stato all'epoca, adesso dai carabinieri forestali, ma anche da altri enti, soprattutto non governativi, anche da parchi zoologici. Quindi abbiamo una quantità di animali che sono detenuti, diciamo così, in cattività e bisogna pensare, insomma, a cosa potremmo farne. Essenzialmente l'idea è prima o poi di liberarli questi animali, liberarli per il loro benessere, perché tendenzialmente un animale sta meglio in natura rispetto alla cattività, possono essere utilizzati per ripopolare determinate aree con densità molto basse o addirittura introdurli in aree dove sono estinte, dove sappiamo che c'erano e non ci sono più, valorizzare anche dei territori, anche da un punto di vista turistico e, non ultimo, il risparmio. Il risparmio perché questi recinti ovviamente costano molti soldi da mantenere, non solo per il cibo per gli animali, ovviamente, ma anche per tutta la gestione, il personale che li gestiscono. Cosa dobbiamo fare per poterle liberare queste testugine in cattività? Ovviamente bisogna procedere con delle analisi di salute, come stanno, ci sono già molti test che possono essere svolte da un punto di vista serologico sulla presenza, per esempio, di virus. Bisogna identificare delle aree idonee, cioè delle aree che ecologicamente siano adatte a supportare delle popolazioni di questa specie e poi su questi animali di origine per lo più sconosciuta, come abbiamo già visto anche nelle presentazioni precedenti, fare dei test, fare dei test genetici, creare quindi un database di riferimento, prima cosa, delle popolazioni naturali, sviluppare dei marcatori molecolari che siano anche efficaci da un punto di vista dei costi, perché se dobbiamo fare molti test bisogna sviluppare qualcosa che sia pratico, non genomi completi che costerebbero migliaia di euro per ciascun animale, ma dei marcatori che siano utili e informativi, e poi svolgere dei test statistici, dei test statistici necessari, come sempre, per poter assegnare, con una certa probabilità di assegnarlo correttamente, un animale alla sua possibile area geografica di provenienza. Questo ci riporta un po' un discorso che ha anche affrontato Claudio sulla struttura delle popolazioni. In molte specie non esiste un'unica popolazione omogenea, ma esistono tante, chiamiamole sottopopolazioni, sottospecie, gruppi di geneticamente o comunque distinti, e questo è dovuto al fatto che l'ambiente in cui vivono molte specie è caratterizzato da barriere, per esempio tante isole separate da tratti di mare, oppure delle valli separate da alte montagne, sono difficili da superare. Quindi può essere che ci siano delle barriere, può essere semplicemente che la distanza è troppo grande per essere percorsa, per trovare il partner. Quindi questo fa sì che popolazioni che sono molto distanti in realtà non si incontrano mai e sviluppano delle differenze genetiche. Ho fatto due o tre sketch molto molto semplificati per farvi capire un po' la questione. Immaginate questa situazione con un'altra divergenza, perché ovviamente a una divergenza in popolazioni diverse corrisponde un sviluppo di divergenza genetica, e qui i colori rappresentano delle varianti genetiche. Se la situazione fosse questa, cioè quattro popolazioni con caratteristiche genetiche ben diverse, anche se con variabilità all'interno dei singoli gruppi, vedete che non sono tutti rossi intensi, ma di rossi diversi o di verdi diversi, io ho un animale lì sotto in basso a sinistra, guardo le sue caratteristiche genetiche e faccio un'assegnazione immediata. Questa cosa è molto rara, può succedere, implica di solito un tempo di divergenza molto lungo, cioè una separazione da molto tempo, implica dei tassi di dispersione o di migrazione molto bassi, cioè gli animali sono veramente isolati, e può implicare anche una situazione con quattro habitat, in questo esempio, abbastanza diversi, cioè gli animali si sono adattati a delle condizioni ambientali diverse e quindi sono molto diversi geneticamente. L'assegnazione, se io dovessi partire dall'animale là sotto in basso, è molto rapida. La riporto dove ci sono gli animali verdi o dove so che in passato c'erano gli animali verdi. Il caso opposto è quello invece dove la divergenza genetica è molto bassa o assente completamente. Qui vedete c'è molta variabilità genetica, ma ogni popolazione ha tutta la variabilità genetica. Questo potrebbe essere una situazione di una divergenza recente, per esempio indotta dall'uomo. L'uomo, come sappiamo, tende a frammentare gli habitat. Una popolazione che una volta era omogenea tende a frammentarsi, ma è ancora molto omogenea geneticamente. Quindi da un punto di vista dell'individuo dove lo riporto, io non ho la più palida idea di cosa fare, perché il verde c'è un po' in tutte le popolazioni. Questo non solo da un punto di vista dell'assegnazione potrebbe essere un problema, però da un altro punto di vista non è neanche così un problema, nel senso che tutto sommato, se c'è poca divergenza genetica, assegnare un individuo in una popolazione o l'altra non cambierebbe un granché. Ovviamente queste due situazioni estreme sono le più rare, perché la gran parte dei casi abbiamo delle situazioni intermedie, con una divergenza genetica media, dove c'è un po' di divergenza, vedete i rossi tenono a stare un po' tutti tra di loro, però i verdi sono un po' dappertutto, anche se nella popolazione in basso a destra ci sono più verdi. In tutta questa situazione di variabilità condivisa, ma anche di divergenza genetica, intervengono dei metodi statistici che usano i nostri dati genetici, nel nostro caso, per dare con una certa probabilità una corretta riassegnazione ad un'area, dove, vi ripeto, c'erano già o ci sono ancora degli animali, oppure non ci sono più, ma magari in un'area vicina ci sono degli animali che posso campionare. In questa diapositiva, che la scorro molto velocemente, c'è solo un'indicazione di come poi, per riuscire a fare queste assegnazioni, i marcatori molecolari sono importanti, ma sono importanti anche, dipende anche da quanti ne abbiamo di marcatori molecolari. Se noi abbiamo soltanto un marcatore molecolare, e qui abbiamo una situazione in cui ogni punto rappresenta un individuo e le sue caratteristiche genetiche, quindi più sono distanti due punti, più sono distanti geneticamente, abbiamo tre colori diversi, anche se magari fate un po' fatica a vederli, ma comunque ce ne sono tre, ma vedete che sono un po' dispersi, quindi i tre gruppi geneticamente distinti, con un marcatore non riesco a isolarli. Però se passo a tre, a sei e a nove, è proprio l'insieme dell'informazione di più marcatori che mi permettono una separazione, quindi un'eventuale assegnazione corretta. Quindi è tutto anche un po' un gioco di quanti marcatori mi servono, sapendo che ogni marcatore in più che faccio può costare ovviamente del denaro. La distribuzione, adesso veniamo direttamente alla Testude Armani. La distribuzione geografica è in queste due sottospecie, quella in verde, che è la Testude Armani-Botgheri, la sottospecie orientale, che raggiunge più o meno il nord-est dell'Italia, e quella in arancione, che invece è la Testude Armani-Armani, la sottospecie occidentale, che occupa gran parte della penisola, le isole e alcuni spot in Francia e in Spagna. In Italia, vedete quella distribuzione che sembra abbastanza continua della sottospecie occidentale, in realtà anche lì è tutta una questione di piccoli spot di popolazioni naturali, non esiste ovviamente continuità dell'areale. Ho scritto due o tre sottospecie, c'era una cosa che volevo dirvi su questo, ma visto che poi siamo anche un po' in ritardo, questa parte la posso anche tranquillamente saltare, salterò due o tre diapositive. Facendo un po' un percorso storico, anche non solo nel discorso della CITES, ma anche negli studi che noi stiamo facendo sulla testugine, il primo studio l'abbiamo fatto nel 2003, con l'Università di Ferrara, DNA mitocondriale, quindi un marcatore molecolare abbastanza semplice, e siamo andati a campionare tre aree, una era quella vicino a casa nostra, bosco della mesola, un'area seminaturale, una piccola popolazione del Monti Nebro di Sicilia, e poi attraverso dei colleghi, popolazioni spagnole delta dell'Ebro. Quindi un semplice marcatore, tre popolazioni, circa 50 animali campionati, campionamento sangue, quindi invasivo, con veterinari specializzati, che non arreccano nessun danno all'animale, almeno questo è quello che pensiamo noi, nessuno è mai morto di questi animali, e ovviamente anche un po' di analisi morfometriche. E il primo risultato, ottenuto in quello studio del 2003, era abbastanza chiaro. Geneticamente ci sono, sotto vedete la testuda marginata, che è un'altra specie, e i due gruppi, con quei due triangolini in blu, sono una parte, i campioni Spagna e Sicilia, che non si riescono bene a differenziare, e dall'altra tutti gli altri, l'altro, cioè quello del bosco della mesola, che è vicino a Ferrara, che clasterizzava, stava anche insieme, a dei dati che già c'erano in letteratura, di campioni, sia dell'Albania che della Grecia. Quindi essenzialmente, con la genetica del mitocondriale, si conferma la struttura principale, quella delle due sottospecie, con questa estensione dell'areale orientale, fino al nord-est dell'Italia. Poi siamo andati avanti, negli anni successivi, e da 50 siamo passati a 330 animali, 22 località, marcatori microsatellite, 7-8 marcatori microsatellite, che ci hanno permesso di identificare, e sopra in alto a destra, c'è questa struttura, vedete, tutta colorata, ogni linea verticale, sarebbe un individuo, i colori rappresentano la sua composizione genetica, cioè, ci sono dei gruppi principali genetici, e ogni individuo, può essere, o tutto di un colore, o anche un po' misto, e questo è un grande sistema, anche per riuscire a identificare gli ibridi, tra le diverse sottospecie. Comunque, i colori principali, quindi i gruppi genetici principali, che abbiamo identificato qui, erano 5, un gruppo che copre le isole del Mediterraneo, l'Italia peninsulare, la Francia, Bosco Mesola, cioè nord-est dell'Italia, Croazia, e una parte dei Balcani, c'è un bel buco lì in mezzo ai Balcani, come vedete, e un'altra della Grecia. Quindi iniziamo ad assegnare delle aree geografiche, delle caratteristiche genetiche distinguibili, ma non lievissime, e qui ci sono degli indici per misurare la variabilità, la differenza genetica, sono abbastanza evidenti. A questo poi, negli anni più o meno, due o tre anni fa, si sono aggiunte ai nostri studi anche la collaborazione con un progetto che stava portando avanti l'Università della Tuscia, con Daniele Canestrelli, che è qui, l'Università di Perugia, con Oliviero Olivieri, l'Università di Firenze, con Claudia Corti, che avevano campionato moltissimi altri animali, ampliato moltissimo la distribuzione dei nostri campioni in Italia. Vedete che ci sono molti più punti. E questo tipo di analisi ulteriore ci ha portato a vedere più separazione in Italia, non tanto di più. semplicemente nell'Italia peninsulare vedete che la Calabria era un po' diversa dal resto dell'Italia. I gruppi principali invece che cinque diventavano sei. A questo punto abbiamo uno strumento, sappiamo che c'è la struttura, abbiamo uno strumento per dire sulla base degli stessi marcatori possiamo prendere un individuo di origine gnota e dire è un ibrido e allora non possiamo farci niente. Oppure viene dalla Grecia, lo dobbiamo rimpatriare. Oppure viene dalla Toscana o dall'area centro Italia e quindi possiamo pensare di usarlo per un ripopolamento. Questa cosa viene fatta attraverso quelli che vengono chiamati testi assegnazione o testi esclusione, li ha già menzionati Claudio Ciofi. E la cosa un po' interessante questo, anche se dal punto di vista storico, è che questi test non sono recentissimi. Sono stati iniziati a sviluppare direi almeno una ventina di anni fa. Però più o meno per questo tipo di scopi sono rimasti utilizzati e reangasano utilizzati ancora oggi. Lì sotto ho messo solo due referenze, due articoli più recenti dove usano esattamente questi tipi di test per la riassegnazione di alberi, di tec e per la riassegnazione di scoiattoli grigi, mi pare. Comunque la cosa importante è uno, cerco di escludere gli ibridi, due, trovo la popolazione geneticamente più simile all'animale che ho di origine sconosciuta, con questa cosa che però la popolazione più simile la posso sempre trovare. Potrebbe essere poco simile, ma sempre più simile di tutte le altre popolazioni. Io non ho campionato tutte le popolazioni dell'areale. E quindi si aggiungono dei testi esclusione per dire se significativamente posso escludere delle popolazioni come possibile origine. Sulla base di questi test, che sono neanche troppo complessi, insomma, da un punto di vista statistico, si può arrivare a fare delle assegnazioni. E, sempre in collaborazione con le università che ho citato prima, abbiamo testato moltissimi animali provenienti, circa 500 provenienti da recinti, gestiti dal corpo forestale, carabinieri forestali ed altri recinti, e siamo stati in grado a quei sei macro gruppi a riassegnarne circa 70%. Quindi una possibilità di utilizzare questa tecnica che sfrutta la struttura naturale delle popolazioni per riassegnare animali e possibilmente proporre dei ripopolamenti o delle reintroduzioni in aree dove è estinta. La cosa interessante, se poi andiamo a vedere sito per sito, cioè recinto per recinto, è che in alcune zone, come per esempio nel recinto gestito sempre dai carabinieri forestali in Puglia, molti animali, molto di più rispetto agli altri recinti, erano chiaramente di origine balcanica, quindi di origine all'octona. In altre aree si trova sempre una certa proporzione di animali provenienti da quella regione o provenienti da altre regioni, ma insomma le proporzioni tendenzialmente sono più per, negli recinti si trovano animali spesso che provengono da aree circostanti, tranne dove probabilmente c'è stato anche l'ingresso e l'afflusso maggiore di animali importati illegalmente. Questa la saltiamo e concludo solo dicendo uno sviluppo sul quale stiamo lavorando da un paio di mannetto più o meno, cioè aumentare il numero di marcatori ma con l'obiettivo di semplificare e ridurre i costi. Allora, questo passa attraverso un doppio passaggio. Il primo è sviluppare delle tecniche genomiche tipo una che si chiama Rav sequencing e questo l'ha fatto Daniele a Viterbo per tipizzare un sottocampione di animali quindi avevamo tipizzati una settantina preso dalle diverse aree. Questo ci ha permesso di sviluppare non più 7-8 marcatori ma 3.000 marcatori e cosa un po' interessante anche curiosa anche con 3.000 rispetto ai nostri 7-8 non è che abbiamo aggiunto tanta aree geneticamente distinte in più. La cosa che si diversifica e questo forse si collega un po' anche alla domanda che prima Claudia aveva ricevuto sul sud Italia è che di tutte le aree che vedevamo prima restano tutte le stesse tranne nell'area della Calabria identifichiamo tre gruppi genetici distinti. Poi ci sono le isole poi ci sono Bosco Meso la Croazia un po' delle Balcani poi c'è la Grecia. La cosa però importante è che da questi 3.000 marcatori è possibile identificare e selezionare quelli più informativi cioè dire con 3.000 marcatori a me va benissimo riesco a riassegnare gli animali ma posso trovarne un sotto insieme utile per fare spendere molti meno soldi quando si ripizzano le centinaia di animali in cattività qui c'è tutta un'analisi che non vi descrivo ma che ci fa vedere soprattutto dove c'è la freccetta nera nella seconda serie di pallini come un pannello un insieme di 48 di quei 3.000 marcatori riesce ad assegnare correttamente gli animali di cui si conosceva già all'origine questi test ovviamente si fanno su animali che già si conosce di cui si conosce già l'origine l'80% molto simile a quello che si poteva fare con il doppio dei marcatori e solo poco più basso di quello che potevamo fare con i 3.000 quindi sono una scelta dei marcatori informativi questo ci permette di portare avanti una cosa che è proprio in corso in questi giorni attraverso una ditta biotecnologica che ci fa questo lavoro in outsourcing insomma queste sono cose che si fanno normalmente in ditte specializzate esterne all'università cioè l'utilizzo di quella tecnica lì che si chiama CASP per tipizzare 48 marcatori informativi in piccoli campioni di sangue questo porta dalla tipizzazione precedente che poteva costare tra i 40 e i 50 euro a 10-15 euro a campione quindi un risparmio enorme e una quantità di informazione quasi equivalente a quella che si avrebbe con molti molti più marcatori questi sono un po' gli sviluppi tecnologici anche vi ringrazio queste sono tutte le persone che hanno collaborato in questi 15 anni a darmi una mano in tutto questo percorso chiamiamolo così sulla genetica della testugine ci sono ovviamente dei colleghi di Ferrara ci sono tanti tesisti c'è un dottorato di ricerca che è stato fatto ovviamente Stefano Mazzotti del museo di storia naturale da cui un po' anche l'idea della mesola è partita come studio sulla testugine e poi l'università come vi dicevo Tusha Perugia e Firenze tanti veterinari che vengono quando andiamo a fare i campionamenti i carabinieri e in particolare vorrei ricordare Giovanni Nobili del centro biodiversità di Punta Marina nel Ravennate e anche Caterina che parlerà adesso con la quale insomma da qualche mese abbiamo iniziato un pochettino a ragionare sugli animali che loro hanno allo zoo grazie grazie professore con la minaccia che avevamo fatto prima di ridurre il tempo del pranzo immagino non ci saranno richieste ci sono osservazioni qualcosa no non ne sento allora Caterina Spezzo è stata già chiamata dal relatore a presentarci l'ultima relazione sul ruolo dei giardini zoologici te la dà per quale